E' stata consegnata oggi allo stabilimento di Ancona Viking Venus la nuova nave da crociera di Fincantieri per la società armatrice Viking. L'unità si posizionerà nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. Come l'unità gemella avrà una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate dotata di 465 cabine e potrà ospitare a bordo 930 passeggeri, lo rende noto il gruppo cantieristico. A seguito della chiusura dell'area a caldo della ferriera di Servola la qualità dell'aria è ora nettamente migliorata nel quartiere. In particolare i valori delle PM10 sono calati di due terzi e le concentrazioni di benzene e benzopirene sono del tutto simili a quelle di un fondo urbano triestino. Lo rileva il report dell'ARPA FWG presentato oggi in occasione di un sopralluogo nell'impianto compiuto dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocci Marro assieme alla direzione regionale e ai tecnici dell'agenzia. A marzo a Trieste gli indici di prezzi al consumo sono aumentati in generale dello 0,4% rispetto a febbraio e dello 0,8% rispetto a marzo 2020. Lo rende noto l'ufficio Statistica Comunale precisando che gli indici dei prezzi sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni differenziate a livello regionale definite dalle normative nazionali e locali per contrastare la pandemia causata da Covid-19. Bendati davanti all'Ufficio Scolastico del Veneto e il flash mob organizzato dalla rete degli studenti medi per denunciare gli episodi di umiliazioni durante le interrogazioni e le verifiche in DAD e ribadire come il caso del Liceo Montanari di Verona sia uno dei tanti frutti dell'arretrato sistema scolastico italiano. Aprite gli occhi, questa non è la scuola. È lo slogan lanciato dalle studentesse e dagli studenti della rete. Stava per cominciare l'udienza del processo a suo carico in cui doveva rispondere di omicidio stradale accaduto il 5 giugno del 2016 a Castello di Godego ma improvvisamente è caduto a terra vittima di un attacco di cuore che gli è risultato fatale. Tragedia questa mattina in tribunale a Treviso. Enzo Binda, 72 anni, di Loria, imprenditore titolare di un'azienda del settore tessile è molto conosciuto nel Castellano, è stramazzato a terra ed è morto per un infarto. L'anziano è stato prontamente soccorso dal personale del suo in 118 che però, dopo un'ora di disperati tentativi di rianimarlo, non ha potuto che constatarne il decesso. Domani, sul Friuli Venezia Giulia, al mattino cielo in prevalenza sereno saranno possibili ancora locali gelate anche in pianura, oltre che sulla zona montana mentre al pomeriggio sarà probabile cielo poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Le temperature in pianura da meno 1 a più 4, le massime fra 15 e 17, sulla costa da 4 a 7 le massime da 12 a 15 gradi centigradi. Per quanto riguarda il Veneto, cielo sereno poco nuvoloso, salvo sviluppo di modesti cumuli durante le ore centrali sull'entroterra della pianura in prossimità dei rilievi. Temperature minime in pianura, stazionario in diminuzione con valori localmente prossimi o di poco inferiori a zero sulle zone interne, in generale diminuzione sulle zone montane massime in aumento, anche marcato in pianura. È tutto per il nostro appuntamento con informazione di Oggi a Nord-Est, appuntamento che si rinnova anche domani, come al solito, alla stessa ora. Grazie a tutti.